Ciao a tutti amici, negli ultimi mesi mi sono posto il problema di come accumulare Bitcoin, che è un mercato in cui credo estremamente, però senza mettere a rischio ulteriori capitali. Infatti ormai il Bitcoin ha raggiunto una parte non trascurabile del mio portafoglio di investimento. Per farlo mi sono affidato a questa azienda che produce questa carta, che è Crypto.com. Sostanzialmente tra i benefit che questa carta offre c'è sostanzialmente un cashback del 2% su tutte le spese che effettuiamo tramite la carta stessa e questo è molto utile perché sono spese che effettueremo comunque con altre carte di credito, quindi semplicemente usando questa si ha diritto al 2%. Ed inoltre per il tier più piccolo si ha a disposizione anche il rimborso di Spotify. Io personalmente prima utilizzavo Apple Music, però ho effettuato la transizione a Spotify proprio perché mi consente non solo di risparmiare 9,99€ ma anche contemporaneamente di andare a accumularli sul conto CRO che poi a sua volta potranno essere comunque convertiti o in Bitcoin o comunque anche nella valuta che preferite come ad esempio potrebbe essere l'euro e quindi riaverli già sul saldo corrente per essere spesi. Questo naturalmente dipende dalle vostre scelte. Approfitto anche per mostrarvi delle slide così che potete vedere tutti i tier che Crypto.com mette a disposizione. Infatti abbiamo il tier, quello gratuito che dà un 1% di cashback sostanzialmente senza nessun tipo di benefit fino all'8% però in quel caso bisogna andare a bloccare degli importi abbastanza importanti. Infatti c'è da sottolineare che per avere diritto ai benefit che la carta mette a disposizione bisogna bloccare un certo quantitativo di CRO come ad esempio 1000 che è quella che utilizzo io per avere, che corrispondono comunque a 100€ circa e permettono di avere il cashback del 2% invece 10.000 che sarà comunque 10 volte tanto per avere un cashback del 3% però in questo caso avremo anche un rimborso di Netflix. Poi qui naturalmente dovete essere voi a fare bene i vostri conti nel senso che comunque è un'azienda che sta estremamente crescendo questa però potrebbe comunque fallire, il valore dei CRO per qualunque tipo di rischio potrebbero comunque arrivare a valere a zero quindi andare a impegnare cifre importanti è comunque sempre un rischio che bisogna considerare. Io infatti personalmente per il momento appunto ho bloccato solo il tire da 1000 CRO e comunque da dei benefit, uno che vengono ammortizzati molto in fretta perché infatti per rientrare dei 100€ che blocco e che comunque voglio sottolineare che vengono restituiti dopo 6 mesi poi dovranno essere nuovamente ribloccati se si vuole utilizzare tali benefit però comunque vengono ammortizzati nell'arco di circa 4 mesi con questa offerta invece per già bloccare il tire da 10.000 CRO invece bisogna attendere un tempo considerevolmente più lungo per arrivare a riammortizzare tramite i bonus la cifra bloccata. Comunque non preoccupatevi, questo video è anche soprattutto, anzi è rivolto ai neofiti del settore proprio perché chi è esperto conosce benissimo questa azienda ci sono tantissimi video su YouTube che la descrivono a me piace molto perché rispetto ad altri competitors rende il tutto molto più intuitivo non è assolutamente complicato andare a convertire euro nel suo token andare a fare anche operazioni di trading e soprattutto andare a utilizzare la carta che tra l'altro come potete vedere tutte le carte sono totalmente in metallo e una cosa abbastanza simpatica è che comunque quando vado a pagare con questa carta tutti mi chiedono che tipo di carta è che comunque ha un peso importante ed ha veramente una sensazione molto premium comunque questo video non vuole essere assolutamente una pubblicità per l'azienda anche se può sembrarlo però è proprio una carta che mi è arrivata a fine agosto e la sto usando regolarmente e ha sostituito praticamente tutte le altre carte l'unico difetto è che i tempi di spedizione possono essere abbastanza lunghi per me ci ha messo poco più di un mese per arrivare dal momento in cui l'ho ordinata e il secondo difetto è che purtroppo Amazon.it al momento sembra non accettarla quindi per Amazon utilizzo un'altra carta però questa qui l'ho provata funziona comunque con Apple ovviamente con Spotify, con Netflix per tutti i ristoranti non ho mai avuto un problema per pagare qui in Italia in qualunque posto in cui io sono andato va bene? Vi ringrazio per avermi ascoltato in questo primo video un grazie a tutti, ciao!